cazzo no 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 porca troia stai arrivando praticamente sono qua amico cerca di rispondere subito al telefono il gruppo si sta radunando organizziamo una gara sprint i ragazzi stanno facendo un casino proprio ora la pula è sempre un'ottima motivazione per tagliare il traguardo allora potete perdere ho una proposta da farti dimmi ecco le regole trova un mezzo con meno di 200 cavalli ok tieniti dietro gli sbirri per 5 minuti e poi seminali buona fortuna meno di 200 cavalli se lo dici te io ci sto vediamo se possiamo modificare qualcos'altro perché modificare l'auto al massimo è sempre utile ecco già che possiamo mettere questo ecco finalmente modifichiamo anche questo meglio questo ecco andiamo a mettere anche questo questi ancora sono bloccati questo è bloccato pure va bene quanto umano porca puttana pure ci vieni vabbè tanto è passato solo un minuto finora manco a spinta cammina sta macchina assurdo cazzo mi ha mandato pure fuori strada non mi semino con questa macchina è impossibile seminarli essere iscriviti dal video avversario 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 Grazie a tutti.